Mi chiamo Flavio Pighin, sono presidente della cooperativa Copropà che raggruppa i produttori patate del Friuli Venezia Giulia. Ho avuto modo di conoscere l'onorevole Zanin due anni fa in occasione della festa della patata che teniamo ogni anno il mese di luglio a Boledo dove viene fatto un convegno dove si parlano dei problemi inerenti alla patata che in questi ultimi anni qua sono anche aumentati perché il reddito è un po' scarso, ci sono alcuni problemi che un tempo forse non c'erano e che adesso ci sono relativi anche alla patata d'industria che un tempo aveva anche un lieve contributo, ora non c'è più e quindi sta soffrendo in questi ultimi anni qua ed è anche in calo la produzione di questo prodotto qua. Con quel convegno il presidente e il direttore di UNAP ha avuto modo di conoscere l'onorevole Zanin e presentare alcuni di questi problemi qua che noi viviamo da un po' di tempo a questa parte. Da quell'incontro è scaturito poi un incontro presso la Camera dei Deputati, invitati dall'onorevole Zanin e da lì è venuto fuori anche un incontro da parte del direttore e presidente di UNAP alla Commissione Agricoltura dove questa Commissione Agricoltura ha provveduto a fare una risoluzione per questo problema qua della patata e presentarla al Ministero dell'Agricoltura che speriamo in qualche modo abbia a ottenere qualche risultato e a beneficio dei produttori di patate.